La casa di Caterina Balivo a Roma è un vero gioiello di design e arte. L'appartamento nel cuore della capitale è abitato dalla conduttrice, suo marito Guido Maria Brera, i loro figli e la figlia di lui. Gli spazi ampi e gli arredi accuratamente scelti rendono l'ambiente elegante e raffinato. La libreria a forma di orso di Joe di Bride Design è un elemento di grande impatto nel salotto, del valore di 3.326 euro. Ma la vera chicca di questa casa è la terrazza panoramica circondata dal verde, un'oasi di relax con pavimento in legno e salottino da esterno. Le foto pubblicate da Caterina Balivo su Instagram mostrano dettagli della casa da sogno, un grande divano grigio, una parete attrezzata in mogano scuro, pavimenti effetto cemento e candelabri di ottone sul tavolo da pranzo. La cucina moderna e funzionale ha una grande isola e un angolo per le colazioni in famiglia. La camera da letto dei coniugi è caratterizzata da pareti floreali e un letto dai toni pastello, mentre il bagno principale ha una grande vasca dal sapore ottocentesco. Ogni dettaglio è curato con gusto e attenzione, con un mix di arredi moderni e retro. Non è escluso che la sorella di Caterina Sara Balivo, architetto e set designer, abbia contribuito con il suo tocco personale. La casa di Caterina Balivo è un vero rifugio di eleganza e stile.